Carissimi amici, chi conosce casa mia sa benissimo che sul mio comodino, veramente casa mia sembra una farmacia, parafarmacia, erboristeria, c'è di tutto, ma soprattutto di tutto di più della Solgar. La Solgar resta per me il primo amore, l'amore costante nel tempo perché sono prodotti che funzionano, prodotti testati, non irradiati, c'è la serietà di una grande azienda multinazionale che poi manda in Italia questi prodotti che arrivano a Padova e da Padova poi in tutte le farmacie d'Italia grazie ad Anna Giuliani che poi saluteremo. Con me c'è una grande esperta, la dottoressa, venga dottoressa, possiamo dire nome e cognome? Chiara Nardi La dottoressa Nardi, io ho detto Solgar è per me un colosso per quanto riguarda la garanzia ma anche per i risultati. Certo, Solgar è nota in tutto il mondo, le sue etichette dorate sono proprio indice di qualità del prodotto e quindi di un effetto fisiologico proprio nell'organismo. Poi c'è una novità, la dottoressa con lei abbiamo girato prima, adesso vi lascio con queste immagini e ci vediamo qui fra poco. Oggi vogliamo presentarvi un prodotto nuovo, Biocaricol, si tratta di una preparazione a base di papaya matura biologica, preparata secondo la medicina tradizionale cinese. Qui vedete una scatola che contiene appunto degli sticks con questa polpa di papaya, è un ottimo riequilibratore dell'intestino. La preparazione permette di concentrare le proprietà naturali della papaya e quindi di dare proprio una mano a livello intestinale, a livello gastrico, a riequilibrare appunto l'attività intestinale. Bene carissimi amici avete visto questi prodotti innovativi ma la Solgar è sempre nuova, è innovazione tutti i giorni, loro partono dai capelli veramente fino ai piedi è il caso di dirlo, cioè passano attraverso tutti gli organi e la prevenzione è la cosa principale. Uno non è che dice io prendo gli integratori e poi non prendo più niente per carità, però va integrata l'alimentazione come parlavamo, è la dottoressa Giuliani, presentiamo. Carissimo, ciao, ciao Luca e grazie per questa bellissima opportunità. Grazie a voi. Perché parlare di salute è sempre importante per tutti noi. Solgar a casa mia su tutti i comodini, Fiorello uguale, amici miei importanti e si vedono i risultati. Voi avete dei prodotti che ci danno garanzia, sono prodotti che non sono trattati con i pesticidi, dove non sono irradiati, c'è una garanzia proprio alla base e poi c'è il risultato. Io utilizzo tutti i vostri prodotti, io sono un maniaco della Solgar. Grazie, Solgar è brand che è presente nel mondo dal 1947, è un'industria americana che ha un proprio istituto di ricerca scientifico e ha fatto del benessere il proprio idolo e il proprio stile di vita. Bene, io vi ricordo Solgar, vogliamo dare un vostro sito, la vostra mail, il vostro indirizzo dove tutti possano chiedere, mettersi in contatto con voi? Il nostro sito che è un sito sicuramente di grande pregio per l'informazione scientifica e la divulgazione scientifica che è in grado anche di portare informazioni al pubblico è solgar.it. A questo punto vi raccomando Solgar, grandi, piccini tutti perché da quando sei nel grembo con l'acido folico, da lì in poi anche i bambini, i bambini piccoli, c'è una linea bambina. L'olio di HA ci sono oli di pesce e più specificatamente l'olio di HA che permette al bimbo appena nato, che già a sei mesi può integrare, di avere un supporto per lo sviluppo neuronale e quindi per far sì che i suoi neuroni e la sua intelligenza quando andrà a scuola siano sicuramente al top. E non prende botta dalla mamma perché se prende due prende le botte, se sei intelligente porta dieci merita un bacino. E io ti saluto con un bacio. Grazie. Dottoressa, grazie. Solgar. E io ti saluto con un bacio.